via ciao a tutti amici del cabeza c'è anche riccardo siamo in questa lussuosissima camera d'albergo lussuosissima camera letti rigorosamente separati separati perché non vorrei mai a parte stanotte siamo venuti a casa toccato il letto toccato il letto arrivederci grazie siamo a scarperia per girare al mugeno purtroppo il tempo oggi è tiranno bastardo se l'ha messa in culpa adesso andiamo fuori vorrei che riccardo trattenesse il telefono che devo fare la preghiera a odino preghiera a odino preghiera a odino la chiamavano al mattino odino dio del tuono della pioggia perché non te la vai a prendere da un'altra parte da un'altra parte ma non dico tanto distante firenze a qui ci lasci non vorremmo andare così va bene il tempo tu va bene no non c'è tantissimo però se fosse appena appena un po d'arietta un occhio di sole per assuggare la pista ci accontentiamo di poco un bus del culo due mesi che aspettiamo di girare per avere questo tempo di merda dai 18 maggio ragazzi con lo smanicato del piumino al 18 di maggio porca troia a firenze fossimo che cazzo non so in germana a firenze 18 maggio dai è così quindi odino 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 te la dico in puglietta ci cacchettavo a cazzo perché non è possibile amici del cabeça dobbiamo salutarvi perché cosa facciamo qua stiamo qua a pregare che cambi il tempo non lo so neanche le bandiere si muovono no anche perché poi allora filippo filippo dobbiamo dire allora filippo si è svegliato stamattina alle cinque e mezza a cercare i cantieri è andato a vedere i cantieri come i vecchietti è vero e adesso ci sta aspettando in pista da circa un'ora e mezza e noi che vuol montare i cazzebi vuol montare noi abbiamo fatto un chilo di cacca al cerco tra due tra tutte e due perché volevamo scaricare responsabilità si chiama lo scarico delle responsabilità giacomino tu che non sei venuto giacomino tu 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 proprio tu colpa tua esatto aspetta 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 la news la news chi c'è in pista oggi perché piove martelli figa io ti giuro voglio vedere la lista dei partecipanti la prossima volta se c'è martelli o quel cazzo mi muovo c'è martelli e piove figa questo questo bufo di merda porca troia e ieri sera la elice ha detto gli ho chiamato il flash ma c'è martelli e c'è martelli si c'è martelli ma vaffanculo ragazzi vi salutiamo appuntamento numero uno bugello ciao ciao